Uno stop forzato che lo ha costretto a saltare la partita di domenica scorsa contro la Cavese ma l'infortunio di Leonardo Perez sembra meno grave del previsto per la punta mesagnese infatti gli esami di rito che si sono svolti nel pomeriggio di lunedì hanno evidenziato uno stiramento di conseguenza per il numero 10 della Virtus Francavilla i giorni di stop dovrebbero essere una ventina o poco più 2020 finito dunque per il capocannoniere della scorsa stagione degli Imperiali che salterà le due sfide presossa contro Bisceglie e Vitervese l'obiettivo è bruciare le tappe ed essere in campo per il match di metà gennaio contro il Palermo allo Stadio Barbera in pratica la prima partita del 2021 a questo punto aumentano le possibilità di vedere ancora titolare nel derby casalingo di domenica Francesco Puntoriere tra i migliori in campo nella sfida di Cava De Tirreni e in due occasioni vicinissimo al gol non sembra grave neppure il guaio muscolare che ha costretto Francesco Pambianchi ad abbandonare per precauzione il terreno di gioco nella sfida di domenica pomeriggio contro il Bisceglie il difensore dovrebbe farcela bisognerà capire poi se Trocini vorrà rischiarlo o tenerlo al sicuro per il turno infrasettimanale del 23 contro la Vitervese per la Vitervese